Via Libera al Chiassaibis in provincia. A sciogliere nodi sono stati i primi cittadini di centrodestra che si sono riuniti per stabilire chi sarebbe sceso in campo per guidare l'ente per i prossimi quattro anni. Durante la riunione convocata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sul tavolo erano presenti di fatto due candidature, quella dell'attuale presidente sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e quella del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri che nei giorni scorsi si era detto disponibile. Dal voto dei primi cittadini della coalizione è passata dunque la linea della continuità del presidente uscente nei confronti della filosofia della rotazione del terreno. Io ieri ho aperto un tavolo con i sindaci della provincia di Arezzo dal quale ci siamo avvicinati con due candidature, c'è stata una prevalenza di gradimento nei confronti del criterio della continuità amministrativa che quindi ha visto prevalere il sindaco di Montevarchi, carissima amica che io stesso ho proposto per il suo primo mandato e quindi io sono certamente con lei ma non sono il solo, tutti i sindaci che erano ieri sera a quel tavolo alla fine sono usciti condividendo questa scelta.